Buongiorno a tutti, oggi vorrei parlarvi brevemente di un problema che è molto sottostimato come importanza. Qualche anno fa chi li ha studiati a fondo ha preso prima Nobel, quindi probabilmente è proprio tanto inutile questo argomento, non è. Però è poco conosciuto, che è quello dei cicli circadiani. Ora esistono i cicli circadiani, settimanali, mensili, annuali, abbiamo tutti i cicli di questa terra. Va bene, però il ciclo circadiano del nostro corpo, della nostra alimentazione, della nostra vita, almeno parliamo di quello di un giorno, è di fondamentale importanza. Perché? Perché noi abbiamo tutti i metabolismo che sono regolati, posizionati su questi cicli, che si basano sull'alternanza luce-buio. L'uomo è un animale diurno, questo deve essere estremamente chiaro, ed è la partenza di tutto il discorso. Se è un animale diurno, va bene, lui ha i metabolismo energetici, ai massimi livelli, perché deve lavorare, deve produrre, deve fare, di giorno. Quindi noi avremo il cortisolo al mattino molto alto e avremo invece gli ormoni dell'accumulo, quelli della riparazione, quelli che servono per ripristinare le scorte, che li avremo molto alti alla sera. Quindi siamo catabolici al mattino e anabolici alla sera. Già questo vi dà un indirizzo estremamente importante di comportamento. Perché? Perché alla mattina si deve mangiare, si deve nutrire il corpo, alla sera no. Va bene, alla sera noi non dobbiamo nutrire più di tanto il corpo, al massimo dobbiamo fare un po' di lavoro di ripristino. Per esempio, quello di mangiare proteine per poter creare massa muscolare. Quindi fare le riparazioni grosse, quindi se ho consumato del muscolo, se ho bisogno di aumentare la massa magra, sicuramente io posso mangiare proteine alla sera. Quindi una suddivisione secondo funzione, secondo i cicli circadiani. E poi un'altra cosa fondamentale è capire chi regola questi cicli circadiani. Perché in base a questa conoscenza si può capire anche il comportamento delle persone e il perché di molte malattie. Allora, chi determina lo scatto del ciclo circadiano sicuramente è l'opsina retroretinica. Cioè, chiudo gli occhi, c'è il buio e io faccio scattare questa sostanza che va nel nucleo sovrachiasmatico e mi fa partire l'orologio della notte. Però questa opsina può lavorare solo a condizione che l'ormone dell'intestino, un ormone intestinale, che è il VIP, possa fare questo lavoro. Attenzione perché non è così banale. Cioè, io per poter permettere all'opsina retroretinica di darmi il ciclo, di far partire l'orologio, il cronometro, ho bisogno che questo orologio, questo cronometro, sia a carico con la molla. La polarizzazione del nuvolo sovrachiasmatico, quello che poi è il cronometro che io con l'opsina schiaccio, la carica me la dà il VIP. Il VIP è l'ormone che non è quello del very important person, ma del vaso intestinal person. È un ormone fondamentale che viene prodotto insieme con la colecistoghinina e con la gastrina. Questi tre ormoni poi alla fine sono quelli che meglio di chiunque altro va a regolare la funzione cerebrale, sono gli ormoni del cervello. Bene, io quando ho terminato di buttare dentro acqua, cioè di regolare l'acqua nell'intestino, quindi ho terminato la mia digestione, questo ormone può andare nel nucleo sovrachiasmatico, lo può depolarizzare e renderlo pronto per l'attivazione dell'opsina. Se io non ho il VIP, l'opsina non può far partire il nucleo sovrachiasmatico e quindi non può far partire il cronometro o l'orologio, chiamatelo se volete, che mi regola il ciclo. Quindi l'intestino è strettamente correlato con il sonno. Se io alla sera mangio in maniera pesante, poi non mi posso andare a lamentare perché non dormo di notte, perché me lo sono cercato da solo. Quindi mi raccomando, il ciclo circadiano è un ciclo che deve essere rispettato perché è molto preciso e se il corpo decide che non si dorme, non si dorme, potete prendere tutte le pillole che volete, ma non si dorme per questo motivo, perché manca l'attivazione di questo ciclo circadiano, che poi bello sarebbe andare a spiegare in tutte le sue sfaccettature come funziona, perché è regolato finemente. Non è che arriva l'opsina, schiaccia il bottone e io attacco il ciclo, non è così, c'è tutta una cascata di comandi che permette al sistema di regolarsi in maniera assolutamente perfetta. Quindi serve per regolare sia il sonno sia anche la veglia, perché se no, se io non ho un sistema che va in feedback, io dormirei sempre o starei sempre sveglio. Quindi è importante perché anche a livello del metabolismo, anche a livello della qualità di vita, è di fondamentale importanza riuscire ad avere un rispetto per questi cicli. Oggi la gente attraverso il caffè, la luce e altri prende un po' in giro l'evoluzione umana che è vecchia di 10.000 anni e prova a vivere di notte. Ma attenzione, si vive di giorno, di notte attualmente non si vive. I ragazzi giovani che vogliono vivere di notte sappiano che tutti questi eccessi li pagano tutti e con gli interessi andando avanti. Perché il corpo non dimentica i maltrattamenti ai suoi cicli. Arrivederci a tutti.